Ciao a tutti, questa sera saremo in live con Siracusano all'usuale, aspettiamo che entri e poi possiamo essere live. Grazie. Buonasera, per chi si fosse connesso ora stiamo aspettando Siracusano all'usuale prima di iniziare la live, appena è pronto si fa partire l'intervista. Grazie. Eccomi, come stai? Bene, bene, è un po' di caldo qui, abbiamo superato i 40 in questi giorni, però tutto bene. Vai un po' a scatti. Ci sei? Mi senti adesso? Vai, ora sì. Bene. Mi sta andando questa quarantena. Eh, abbiamo preso qualche chilo, però tutto bene, dai. Effetto quarantena, purtroppo. Ha fatto il suo effetto, ecco, hai detto bene. Beh, almeno c'è più voglia di tornare a vedere i rally ora. Non ho capito. Allora c'è più voglia di tornare a vedere i rally. Oh! Speriamo, qua si va un po' di testa, onestamente. Io non ero mai stato tanto tempo fermo in piena stagione, onestamente ci ha fregati un po' tutti. Ma, ce l'ha poccato tutto, purtroppo. Eh sì. Vai, quando ci sei si può insare con l'intervista. Sì, sì, per me va benissimo. Non ci facciano delle domande in chat, ti te le reggilo, se ti va bene, rispondiamo anche a quelle. Sì, certo. Vai. La prima domanda che ci sarà fatta è come è nata la tua passione per il mondo dei rally. Ma, diciamo che io vivo in un paese dove i rally non sono mai mancati. I vecchi rally di Vessina, rally di Nebro, che passano proprio sulle strade. Da bambino, come sai, i genitori ti portano a vedere queste gare. Io avevo circa 7-8 anni, ricordo perfettamente ancora le Porsche, le 037. Niente, è nata sta passione e poi proprio a 18 anni, appena preso la patente, il mio intento era subito quello di voler correre, di fare proprio il navigatore. Io avevo sta mania, non so, perché molti vogliono guidare. Io, il navigatore era la mia attenzione e subito ho preso la patente, il primo anno di patente nel 96, ho fatto il mio primo rally di Messina. E da lì è nata, diciamo, questa carriera che ormai sono più di 20 anni e dico che sono molto felice onestamente perché sono stato molto fortunato, ecco. Il mio esordio è stato a rally di Messina 1996, con Salvatore Calabro con una 205 rally. Piazzamento finale? Piazzamento finale, secondi di classe, a circa 30 secondi, ma sulla prima prova abbiamo perso 5 minuti per cambiare la ruota che avevamo forato e alzavamo la macchina, talmente la temperatura alta, il clic della macchina scendeva nell'asfalto, perciò la macchina non alzava. Cioè sarebbe stata una vittoria palese, però, dico, già arrivare al primo rally, allora il Messina era circa 160 chilometri. È stata comunque una bella soddisfazione la mia prima gara, ecco. Ma guarda, i rally sono tanti, però che ti posso dire, un rally che mi ha colpito come organizzazione, come prova e tutto, è stato il rally mille miglia. Per me è stato uno dei rally più belli in assoluto. Qual è invece quello a cui vorresti partecipare? Ma a me piacerebbe tanto partecipare, che ti posso dire, a un Finlandia, a un rally di questi, perché sono rally velocissimi, con quei tossi, penso che sia un rally che vorrei fare. Non sei l'unico fatti che lo dice, quindi immagino sia anche proprio bello come il rally. Non ho capito. Non sei neanche il primo navigatore stress pilota che lo dice. Eh, i rally lì sono molto belli, belli veramente. Purtroppo, molto spesso, capitano degli incidenti nel rally. Qual è stato l'ultimo più brutto che hai fatto? Guarda, io gli incidenti ne ho fatti un bel po', però quelli tosti sono cinque, ma quello che mi ha veramente devastato è stato un incidente alla Ronde Ferentino del 2011, dove lì lì l'impatto, cioè, vedendo la macchina si pensava fossi morto, ma io non avevo tanti dolori. Invece mi ero massacrato che sono stato 70 giorni in ospedale. Poi, hai mai corso la pilota? Se no, ti piacerebbe farlo? No, no, ho fatto anche tante gare da pilota, una cinquantina di gare, me la sono passata il tempo anche alla guida. Eh, diciamo che non sono uno di quelli che va piano, però ti ripeto, l'emozione che riesco a provare con un quaderno in mano, il volante non me la dà, anche se ho fatto anche delle gare con Super 1600, la Clio Gruppo A, ho lottato anche per qualche vittoria, facendo un secondo assoluto, però fare il naviga è tutt'altra cosa, hai tante responsabilità, ecco. Molto stancante mentalmente. Sì, hai, io guarda una gara che è stata molto pesante, non ultimo, il Rally Alpo Orientale, dove si doveva assolutamente vincere l'anno scorso, perché era una fetta di campionato italiano, e lì è stato molto faticoso per me, perché c'era tanto, tanta tensione, e poi proprio era la prima gara che facevo con Marco Pollara, e non volevo sbagliare. Una gara molto difficile, serratissima, e sì, c'è da lavorare tanto quando fai il naviga, soprattutto quando vai con certi piloti a certi livelli. Ci scrivono in chat, Matteo Narca, ciao, mi saluti, e poi qual è il tuo Rally preferito? Rally? Sì. Eh, ce l'ho detto, il Rally, diciamo, preferito, è il Rally del cuore, il Rally del Tindari, qui, che passa sotto casa mia. Però i Rally sono tanti, ti ripeto, come ho detto prima, per me il Rally più bello che realmente io ho fatto, secondo me è il Rally Mille Miglia. Poi, visto il corso molto anche in Sicilia, qual è la tua più bella di tutte? Ma guarda, diciamo che noi in Sicilia abbiamo due particolarità di prove, abbiamo la zona di Palermo, dove c'è molta velocità e molto viscito, invece nella mia zona messinese c'è molto grip. La prova più bella che secondo me c'è stata in Sicilia sia stata la prova di Zappa, che era una prova super amata da piloti come Andreucci, Punico, Dallavilla, e una 32 chilometri di curve. Per me la prova più bella in Sicilia è la PS Zappa. Molto stancante. Poi ci scrivono, Super Marco ci scrive, una domanda della pagina Super Marco Zanier. Non ho capito, però è tanto. Adesso dicevo, preferisce asfalto o sterrato? Ma guarda, qui in Sicilia purtroppo gare su terra non ne abbiamo, però devo dire che la terra mi piace tanto. Cioè, infatti quest'anno, l'anno scorso ho fatto Tuscan, io preferisco molto la terra. Ci scrivono in chat, Mauro, Rosario, che cosa ne pensi della PS Morelli? Eh, la PS Morelli è la prova che, cioè, è qui a due metri da dove sono seduto io, perché atti anche è sotto casa mia. Eh, penso che sia una gran bella prova, una prova molto, molto tecnica, molto guidata. Però sai, sono di parte, è la mia strada, ci sono cresciuto, sono da 40 anni che ci passo. Poi Super Marco ci fa in chat, correresti con il clima bianco di Zanier? Sì, correrei più che altro, correrei con lui, che è uno che va forte veramente. Ho avuto modo di conoscenza. Ho avuto modo di conoscerlo quest'anno a Udine e Marco è uno di quei tosti. Parlando di un genalto Marco, come hai conosciuto Marco Pollara? Ma io Marco lo conosco, si può dire, un po' da sempre, da quando era bambino che correva con i kart. Poi, quando lui aveva 16 anni, ha debuttato in pista con una macchina da rally, io correvo in quella gara. Lì ci siamo conosciuti, non mi ricordo, credo fosse il 2013. E poi ci siamo sempre incontrati in gara come rivali e ce li siamo dati sempre di santa ragione. Poi l'anno scorso sono stato contattato per il proseguire della stagione con lui e onestamente mi ha fatto molto piacere perché è un ragazzo talentuoso e onestamente ho fatto tre gare con lui e devo dire che mi sono trovato molto bene. Ci puoi raccontare i rapporti che hai con lui? I rapporti, tutti i giorni ci mandiamo il messaggio, amore mio come stai? Amore mio che fai? Un rapporto che è rimasto sin dalla prima gara a Udine l'anno scorso. Niente, posso dire che ci sentiamo tutti i giorni con Marco. Un ragazzo d'oro. Immagino che può anche la filosofia che ci fa per stare in macchina. Sì, ci vuole tanto feeling. Io ho avuto la fortuna di correre con tantissimi piloti, credo che sia una settantina. Se non trovi quell'affiatamento, quel feeling in macchina, anche a livello caratteriale, cioè poi è solo lavoro, è solo lavoro. Cioè io faccio il navigo, uno fa il pilota. Quando invece riesci a trovare quel feeling, anche a livello umano, dove ti diverti anche la battuta nei trasferimenti, anche se qualcosa va storto, quando c'è un buon feeling, si riesce anche a sorridere. Io penso che c'è un pilota in naviga che passano ore e ore, giorni interi, in macchina insieme. Penso che la cosa fondamentale sia il feeling umano, più che a livello agonistico. Sì, perché se si stammare in macchina, poi stanno anche piccoli come macchine. Penso... Sì, sì, non ti passano le giornate, non hai gioie, ecco, devi avere un bel rapporto. Ci scrivono in chat, è difficile imparare a navigare nei redi su strada? Non ho capito. Ci scrivono in chat, è difficile imparare a navigare nei redi su strada? Ma guarda, allora, se uno fa il naviga così per fare la gara con l'amico, che magari fai la gara di casa, dove il radar magari nemmeno lo usi, perché il naviga o il pilota conoscono le strada in memoria, lì è tutto più facile. Però, se fai delle gare a livello professionale, lì diventa molto più difficile. Io qua ho visto che ci stai seguendo Nico Connella, che lo saluto, e lui è un giovanissimo, ma io in questo momento posso dire che è tra i migliori in Italia, perché l'ho visto lavorare e lavora con una professionalità assoluta. Perciò ti ripeto, quando corri ad un certo livello, diventa molto più difficile. Lì hai bisogno di essere veramente un professionista, devi lavorare tanto. Anche fuori la gara, devi lavorare tanto per arrivare a un certo livello. Non basta solo dare le note. Cosa si prova ad aver preso parte in alcune gare nel CIR? Non ho capito. Cosa si prova ad aver preso parte in alcune gare nel CIR? Sono gare molto belle. Io ho avuto la fortuna del CIR. Ho iniziato, ho fatto il mio primo campionato CIR nel 2002, con la stilo, se non erro. Poi sono stato un po' infermo qualche anno, perché diciamo che noi del sud abbiamo meno possibilità di correre nel CIR, perché ci sono pochi piloti siciliani che alla fine fanno il campionato italiano e la maggior parte sono del nord, ripeto, e hanno il naviga. Perciò quando hai l'occasione che ti cercano, come è successo l'anno scorso, per navigare Marco Pollara è sempre bello, anche perché il CIR per me è uno dei migliori campionati in assoluto a livello europeo. Cioè il CIR, il campionato italiano, è uno dei migliori e dei più combattuti campionati. Buongiorno. Poi ci dicevano anche, perché non hai corso la distanza con Marco? Ma diciamo che è stata più una mia scelta, perché ho avuto difficoltà con l'inglese e onestamente non me la sono sentita per una questione di sicurezza, non per tanto in macchina o per la difficoltà della gara, ma per quanto riguarda il briefing, per quanto riguarda a non starti di una prova, un commissario ti dà delle indicazioni, che magari ci può essere una macchina che occupa la sede stradale e tu non lo capisci, e arrivi pieno in quella curva e ci arrivi sopra, cioè solamente per aver cercato di presunzione, non me la sono sentita, ecco. Farò, dico, non so, ora, questo virus, cosa crea, dovevo fare sicuramente con Marco Germania e Sardegna, però ti ripeto, non me la sono sentita e è stato un dispiacere enorme non partecipare all'esistenza, però penso di aver fatto la cosa giusta. Sì, anche per la sicurezza degli altri, come queste. Esatto. Poi, ci hanno scritto nelle domande, sei diventato molto famoso grazie a un video, come ti sei sentito quando quel video è diventato virale? Ma guarda, rido, questo video è uscito nel 2009, cioè un amico l'ha pubblicato che io ho subito contattato e dicendo leva sto video perché faremo ridere il mondo, cioè non mi sembrava una cosa positiva, anche perché allora non è che... quando nel corso degli anni invece che è spopolato il social, è un panico, ecco, perché sto video è diventato qualcosa di veramente... tu pensi che io, si può dire tutti i giorni, due o tre persone mi contattano, se gli faccio gli auguri con la dedica, ed è bello anche perché non è amato solo dai rallisti, perché c'è gente che non conosce il rally, conosce quel video. È una cosa che fa molto piacere, diciamolo, ecco. Sì, se guardi un lescio, poi c'è anche un milione di viso, poi la gente ci fa le reazioni e tutto. Sì, la gente ci fa sopra di tutto, ah, comunque è bello perché alla fine, diciamo, allora, fa ridere, però c'è di bello anche che alcuni anni fa l'Arenonato da Militare, che è qualcosa di serio, ha inserito questo video in un corso, un corso fatto, se non erro, a Lecce, dove è stato usato per far capire al pilota l'importanza del navigatore, perché noi ridiamo perché abbiamo atturtato tutte cose, però io avevo fatto delle raccomandazioni al mio pilota precise, perché io conosco bene quella strada, perché questo è successo nel 2009, però io ho fatto quella gara, ho iniziato a fare quella gara dal 96, conosco quelle prove millimetriche, e là è molto difficile già sull'asciutto. Immagina, siccome ho visto nel trasferimento che lui aveva qualche difficoltà a tenere questa via sul 2006 con le gomme da stampo, ho detto, qui finisce male. Perciò ho cercato di fare le raccomandazioni che non sono servite a nulla. Purtroppo no. Purtroppo no. Dove è finito Tommaso? Ma Tommaso non ha più corso. Ora lui passa la sua vita tra Sicilia e Piemonte, perché è fidanzato lì anche per lavoro, e ci sentiamo. Ogni anno mi dice che dobbiamo fare una gara, però non la facciamo mai sta gara. Però siamo rimasti in ottimi rapporti, perché alla fine anche se non ha corso più, però è un ragazzo molto simpatico. Ora corro con il fratello, ho navigato il fratello, infatti quest'anno avevo anche un programma con lui, tutto il trofeo di zona qui in Sicilia, e siamo fermi, vediamo come finisce. Troppo troppo. Ci puoi dire il cognome di Tommaso? Shara! Si chiama Tommaso Shara! Verranno mai tutti a scrivergli. 106 e fra 6 ci scrive, anche se l'hai già risposto. Come facevi a sapere che proprio su quella PS si scivolavano a morire. Te l'ho detto, lì si scivola, si scivola perché è un asfalto finissimo, ma poi con la pioggia, lì dai, cioè devi andare sai come? Prima e seconda, lui ha messo la quinta. E' fortuna che gli aveva dovuto essere a mano. Meno male, se no prendevamo di muso. Poi ci dicevo, no che non sono Tommaso io, ho detto, non c'è altro. Poi, qual è l'auto rally che ti ha emozionato di più? Ma guarda, le auto sono tante, potrei dirti che è stata la 206 URC, potrei dirti la scoda, potrei dirti l'escort gruppo A, però penso che le soddisfazioni che mi ha dato la Clio gruppo A, penso che la Clio gruppo A è il top, è la vera macchina da rally. Io adoro quella macchina. Poi si scrive, il mostro è sempre il mostro, ciao Saluzzo. Grazie Alfredo, ciao. Poi qual è la migliore auto secondo te fra R5 e VRC? Ma guarda, con la VRC io ho corso poco. Diciamo che le VRC di allora non sono le R5 di oggi, cioè le R5 di oggi ti fanno fare cose assurde. Cioè per stare davanti a una R5 bisogna veramente una plus, perché sono macchine veramente eccezionali. Poi ci scrivo nei commenti, quale auto come c'è ti diverti di più da guidare? Ma guarda, non lo so. Io penso che le macchine che ti posso dire... L'erano 5 Turbo secondo me è la macchina che mi diverte, perché è una macchina selvaggia, l'erano 5 Turbo, sì. O la Clio Williams, quando la guido mi diverto. Poi ci scrivo nei commenti. Marika Marcuzzi, Rosario, mi hanno scritto che ti faresti un giro con Marco Zanier, ti cedo il posto per una gara, Clio gruppo A è la V, tutta a vita. Guarda, per me è un onore. È un onore se mi dai questo piacere di navigare Marco. Volentieri, volentieri. Dai, la prima gara parto e vengo su e facciamo una gara. In gamba queste persone, veramente in gamba. Tutti che ci seguono anche. Poi ci scrivono Fanta Rally One, lo cascio, come lo vedi nello Junior? Allora, Salvo è un ragazzo che per me va veramente forte. Qui è dimostrato in Sicilia di andare forte. Però il CIR è totalmente diverso. Perché magari qui si fa qualche passaggio in più. Nel CIR due o tre passaggi e ti fermi, altrimenti ti fanno male. Però lo vedo in lotta. Io credo che il CIR sarebbe stato molto combattuto. Però non so se lui, pronti via, sarebbe stato col passo degli altri. Per me quest'anno Mazzocchi. Per me Mazzocchi quest'anno avrebbe vinto lui il CIR. Lo vedo il più preparato e più esperto, tra virgolette, del CIR. L'anno scorso ha fatto una bella stagione, anche se è stato molto sfortunato, diciamo. Scrive Cifra Quarto. Saluti il mio figlio che domani fa dieci mesi. Si chiama Victor. Non ho capito. In chat si scrive Cifra Quarto. Saluti il mio figlio che domani fa dieci mesi. Si chiama Victor. Ciao Victor, auguri! Quando secondo te si può tornare a correre? Ma guarda, ne sto sentendo di tutti i colori. Ora è nata sta novità. Prima delle gare in pista, ora dei test senza navica. Io sono contrario sia alle gare in pista e sia... Anzi, precisiamo. Se noi parliamo di gare in pista, ok. Ma se parliamo di rally in pista, no. I rally sono tutta altra cosa. Per quanto riguarda i test da solo, secondo me, sono una cosa senza senso. Io sono un navigatore che lavora tanto nei test. Si dialoga, ci sono scambi di idee. Quando un pilota fa un test solo, in macchina, che cosa fa? Perché cosa lo fa questo test? Per quale gara? Se la prossima gara non sappiamo se è su terra o su asfalto. Oggi ho letto che è stato rinviato di nuovo il ciocco. Per la seconda volta. Perciò non è che sappiamo che la prossima gara sarà su terra, magari per qualche pilota che fa il CIR. Perciò fare un test così è come di... Ok, mi faccio un giro in macchina. Chiudo un pezzo di strada e mi faccio un giro in macchina. Ma fare dei test senza naviga non ha senso. Anche perché oggi siamo ad un livello altissimo dove non vince più la macchina, ma vince la squadra. Noi, guarda il Mondiale, guarda Hyundai. Hanno un macchinone, dei piloti al top, ma anche hanno dei naviga. Non hanno il pinco pallino in macchina. A seguito hanno centinaia di persone, a partire dall'ingegnere, a partire dal capomacchina, dai meccanici, dall'elettronico. Cioè, c'è tanta squadra dietro. Perciò fare un test solo il pilota non credo serva a nulla, secondo me. No, è anche inutile. Spiego di soldi, perché costano anche le macchine non far muovere, quindi... Bravo. Cioè, che senso ha andare a tirare... Perché rischi anche nei test di tirare una mina. Sì, perché se sono arrivati alla strada, quindi... A che cosa... Cioè, non ha senso... Fare un giro è un conto, ma un test... Un test si fa pre-gara. Cioè, io devo fare il rally San Marino, vado a fare un test sulle strade tipiche sanmarinesi. Devo fare un test per rally del ciocco, vado su delle strade tipiche del rally del ciocco. Con Natica, con il team dietro, con i gommisti, con i meccanici. Ma solo a che cosa serve? A nulla, secondo me. A nulla, infatti. Ma purtroppo, dicevamo così, poi anche in pista le macchine sono anche dopo... L'assetto più dura è anche troppo morbido. Sì, si lavora tanto. Cioè, magari... Che ti posso dire? Ti faccio un esempio. Rally Tuscan. Noi abbiamo fatto... Abbiamo fatto lo shakedown. Avevamo poca trazione. Siccome è una gara molto strana per noi, perché a noi ci interessava solo arrivare, non abbiamo lavorato più di tanto. Abbiamo fatto il primo giro e ti dico... Prendevamo legnate. Io gli ho detto, secondo me non abbiamo tanta trazione. Ok, dice Marco. Lavoriamo sull'assetto. Cioè, abbiamo tolto un secondo e tre a chilometro. Abbiamo fatto gioco di squadra. Abbiamo lavorato e abbiamo abbassato un secondo e più a chilometro. È un abisso. Per questo servono i testi. Per questo serve collaborare in macchina. Sì, è quello che vogliono capire. Non vogliono capire questa cosa qui. Secondo me. Io non lo so che cosa vogliono fare, però credo che ci sia tanta confusione. Che poi non è... Alla fine i problemi sono tanti. Partiamo. Intanto due persone in macchina. L'assistenza. Ok, possiamo evitare di fare le partenze e gli arrivi. Ma durante le prove speciali il pubblico, come lo gestisci, non è facile. Anche perché nelle gare di oggi, che le prove sono molto corte, c'è più affluenza di pubblico. Perché se ci sono prove da 30 chilometri, il pubblico è sparso in 30 chilometri. Ma se facciamo una prova di 8 chilometri, il pubblico è in 8 chilometri. Cioè, la difficoltà più grande, secondo me, è la gestione del pubblico. Già è difficile gestirlo nei bidi, nelle zone non sicure. Non sicure. Immagina gestire il pubblico che deve stare a un metro di distanza. Cioè, è una cosa troppo grande da gestire. Quanti commissari ci vorrebbero? E anche se ce ne sono tanti. Ma pensi che riesci a gestire veramente la gente? No. Cioè, è una cosa troppo grande da gestire. Non è facile. Ti possono fare, sì, 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 ma quando gli avvi la macchina ti addosso per la macchina. Esatto. Già, ma se la gente si mette in una zona vedata dal pubblico e rischia di farsi ammazzare. Figuriamoci se la gente si mette un metro di distanza dall'altra. Ma poi, quando vanno a un rally, che fanno? Partono per una persona con una macchina. Cioè, quando si va nei rally, si parte a gruppi, 4-5 persone. Cioè, capito? C'è una cosa difficile da gestire, veramente difficile in questo momento. Io mi auguro, io penso che la soluzione sia stiamo attenti oggi. Facciamo passare questo virus. Portiamo i contagi a zero e poi si ritornerà alla normalità. Ma dobbiamo essere noi, non solo rallyisti, ma tutte le persone. La maggior parte delle persone lo vuole capire, purtroppo. No, guarda, io abito in campagna e vado in paese solo per la spesa, ma vedo gente che veramente ignora la gravità della situazione. Cioè, se ne frega il tale senza mascherina, senza quanti, così come se fosse nulla. Non ci tengono alla vita le persone. Io mi chiedo questo, dico, ma porca miseria, ma non ci tiene la vita, la gente non ci tiene a vivere. fanno così, no? Un po' per i miei fregiali, la prendo e guarisco, capito? Ma se la prendo, dopo sopra, 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 riempi gli ospirali, dopo non riesci a curare tutti. E mi sa fare la selezione. Ok. C'è da dire che non è detto che si guarisce, perché i morti lo dimostrano. Ma magari tu la, contagi qualcuno che realmente non ce la può fare. Cioè, questa cosa è da stare attenti, perché qualcuno forse ha giocato con il fuoco. Stanno ancora, stanno tuttora giocando col fuoco. Ci sono molti, non lo vogliono capire. Ma salutamente. Poi ci sono molti, essendo italiani, la maggior parte interessano tanto il calcio, va bene. Tanto il calcio lo fanno giocare comunque, perché i calciatori non sono avvicinati, va bene, mi importa, non vado a fare il giro. Non è così, perché se fai partire il calcio non vieni a tutti i sport. Ho visto che domani inizia il campionato in Germania, ora credo che a giugno forse parte anche qui in Italia. Però io non lo so, non la vedo bene questa cosa. Non la vedo bene, perché ci sono molti dirigenti e molti giocatori che non vogliono rischiare. E io non gli do tanto torto. Anzi, io sono ancora con loro. Vediamo, vediamo cosa succede. Noi possiamo solamente attendere. Nel commento ci scrivono Cosa ne pensi della tecnica di rettare le note leggendo prima il grado della curva e poi la direzione? Io l'ho fatto provare a due drivers e i benefici li hanno notati su, soprattutto nelle proprie veloci. Non ho capito la domanda. Cosa ne pensi della tecnica di rettare le note leggendo prima il grado della curva e poi la direzione? Ma io credo che le note dovrebbero essere standard nel senso che se c'è una destra che è una tre si deve dire destra tre. Molti ho visto mi sono trovato anch'io con dei piloti che usano delle note strane. però secondo me mettono solo in difficoltà in naviga. Noi guarda in Italia abbiamo un istruttore come Vittorio Caneva secondo me il migliore al mondo. Io lavoro con le sue note perché io Marco Pollara viene da lui Alessandro Casello è un ragazzo che seguo viene dalla scuola di Vittorio credo che le note siano le classiche destra cinque destra tre sinistra due più lunga senza complicare il mondo perché si crea solamente confusione lavorativa al naviga. In naviga cioè non devi lavorare tanto per memorizzare quelle note io ho corso con qualche pilota che non usava la D o la S usava delle lettere e io la sera dovevo studiare durante le ricognizioni la sera poi studiavo perché avevo paura di sbagliare perché la tendenza qual è? Quella di dire destra o sinistra io sono per il classico ecco poi ci scrivono nei commenti argento Nicola Saro hai ragione sul fatto di aspettare il contagi zero ma dobbiamo considerare anche i noleggiatori delle spese del listing in corso permetto che io non saprei come gestire trambi i casi e allora io questo problema che ci fosse questo problema l'ho pensato già dall'inizio perché quest'anno ci sono stati molti team che hanno comprato le Skoda Evo 5 le Polo e sono rimaste dentro però io vorrei capire una cosa tu spendi 350.000 euro per una macchina quando fai un test di 20 chilometri 30 chilometri a 120 150 euro a chilometro ti sei pagato la macchina? no queste macchine sono pagate si te li paghi con le gare con i programmi con un programma nel CIR di 7 gare 5 gare di Coppedalia così paghi la macchina ma non penso che con il test riesci a pagarti la macchina anche perché diciamolo ma chi sono tutti questi piloti che hanno intenzione di fare il test per che cosa? qualcuno che magari dice oggi non voglio stare a casa noleggio una macchina e mi faccio un giro ma non penso anche perché economicamente siamo stati un po' tutti toccati dal piccolo imprenditore al grande imprenditore cioè il piccolo imprenditore ha perso poco il grande imprenditore ha perso di più in base ai guadagni che hai non penso che oggi hai tanta voglia di andare a fare un test per cosa? torniamo al discorso di prima cioè si passi un giorno in macchina ma non penso che con questo test il team secondo me può pagarsi la macchina secondo me si deve tornare alle gare dobbiamo tornare in modo sereno speriamo possibile sperando il dottore finisca Pramanica ci scrive la gente sta tirando fuori il peggio con questo covid basterebbe usare il buon senso e il rispetto verso gli altri esatto ma infatti la distruzione di questo covid la dobbiamo fare noi noi proteggendoci mantenendo le distanze cioè non cercare no ma i ristoranti capisco che è una sezione critica però se non ci impegniamo noi a distruggere questo questo virus non ne verremo mai fuori perché l'estate finisce l'inverno arriva e di quello che sto capendo io che questo virus riesce a vivere in posti umidi e cose varie se supera l'estate quando arriverà settembre ottobre che cosa succede ritorneremo alla quarantena cioè cerchiamo in questo estate di distruggerlo con il buon senso ma noi non aspettiamo lo stato i medici perché purtroppo loro possono fare il loro lavoro ma se noi non manteniamo la distanza di sicurezza le mascherine i guanti e tutte queste indicazioni non ne usciremo mai scrivono ancora nei commenti Russario cosa ne pensi delle nuove N5 comunque allora ho seguito l'anno scorso il campionato spagnolo dove già correvano dove c'era l'amico Alfredo dei Dominicis e posso dire allora sono macchine molto competitive però al momento il positivo di queste macchine è che sono economiche se loro continuano su questa linea che non fanno tante evoluzioni perché succede questo facciamo la Clio R3 trofeo centralina piombata ok tutte le stesse macchine e 220 cavalli e dopo liberano per arrivare a 250 quei 30 cavalli devi spendere e spendere e spendere ecco se loro usano questa linea io penso che sia una delle macchine veramente belle perché sono sembrano dell'R5 però hanno dei costi molto limitati io penso che sia una buona formula il vantaggio che non tutte si possono permettere di correre con l'R5 esatto e corri sempre con una macchina veramente forte sì una macchina che se sei in grado riesce da testa anche l'R5 ti riesci esatto e lì si verrà anche il pilota se non è il caso bravo chi è il tuo idolo? il mio idolo allora il mio idolo è Didier Uriol e poi qui in Italia Gianfranco Cunico bravissimi quali sono i tuoi progetti futuri cioè quali erano prima del covid? non ho capito quali erano i tuoi progetti futuri nel covid? sì allora progetti ti ripeto c'erano le gare extra mondiale con Marco Pollara perché io avrei fatto credo due gare del mondiale con lui poi dovevo seguire anche quest'anno Alessandro Casella che avrebbe fatto il CIR avrei fatto il trofeo peggio di zona con Gabriele Sciara e in più posso dire che alla fine quelle 10 15 dare extra fuori programma mi escono sempre non mi posso lamentare io ti posso dire che alla fine riesco a fare anche 20 gare l'anno diciamo che fortunatamente sono molto richiesto l'ho detto all'inizio della diretta sono molto fortunato ecco mi cercano vantaggio poi qual è il tuo sogno nel cassetto? ma i sogni ogni volta che ne realizzi uno poi ne cerchi un'altro allora innanzitutto il mio sogno era vincere una gara l'ho vinta dopo un altro sogno era vincerelli di casa e l'ho vinto ti ripeto certo in questo momento il mio sogno sarebbe partecipare a una gara del mondiale ecco però alla fine i sogni per me non è il sogno nel cassetto per me sono i sogni nel cassetto perché i sogni sono veramente tanti certo ora con l'età inizio a crescere i sogni diminuiscono a me non sono più ragazzino ecco ci puoi dare dei consigli per chi vuole intraprendere questo sport e allora tutto dipende dalla possibilità economica certo che se un ragazzino ha delle possibilità economiche buone io gli consiglio di fare anche un cheer con un R1 anche se è una macchina che va piano però ti forma tanto ma non solo la macchina ma anche i chilometri delle prove speciali la difficoltà delle gare per quanto riguarda il ragazzino appassionato tra virgolette come me che vuole correre io consiglio io consiglio di affittarsi una macchina come dire una 106 e fare la sua gara le gare che può pensando solo a divertirsi non pensare ad altro cioè perché alla fine il divertimento è correre partecipare a un rally è una cosa meravigliosa fare non andarsi a indebitare non andare a cercare di correre con macchine dove le franchigie sono esagerate perché poi non è più una gara non è più divertimento ma è un pensiero fisso se sbatto e se faccio danno perciò uno dovrebbe sempre guardare il lato economico ecco ci fanno una domanda in chat le rally 3 rischiano andare più piano le rally 4 su asfalto non ho capito le rally 3 rischieranno andare più piano delle rally 4 su asfalto le rally 4 le rally 3 rischieranno andare più piano delle rally 4 no non ti sento più aspetta mi basta se la legge anche la chat non so se mi senti ora vai allora le rally 3 rischieranno andare più piano delle rally 4 su asfalto rally 4 si così hanno scritto in chat ma che cosa intendono queste nuove macchine che sono uscite penso di si ma ancora queste macchine io non le ho viste non non so certo secondo me la Peugeot avrà fatto qualche prototipo ci avrà fatto qualche macchinone perché infatti penso che quest'anno doveva debuttare alla targa Florio o dopo la targa Florio Paolo Andreucci con questa macchina credo che sia una macchina abbastanza forti ecco anche perché anche perché oggi quando c'è dietro una casa madre come Peugeot non penso che viene fuori qualcosa di brutto anche Ford l'ha fatta penso che siano delle buone macchine ecco non penso che sono più i tempi dove fai il bidone ecco penso che oggi si lavori tantissimo sull'elettronica perciò non la macchina va sempre forte io con le domande ho finito se non vogliono fare altre in chat ti ringrazio per aver partecipato perfetto hanno fatto la domanda cosa ne pensi l'alpe orientale e quale prova ti è piaciuta? ma l'alpe orientale non c'è una prova che non mi è piaciuta mi sono piaciute tutte allo stesso modo tutte prove diverse penso che l'alpe orientale sia una delle gare più belle del CIR penso che ci sia un tanto lavoro dietro e meritano la validità che ha quella gara bella bella veramente anche dove è stato situato lì in fiera il parco assistenza riordino io do dieci all'alpe orientale ci precisano anche che le rally 4 sono le nuove le nuove r2 le rally 3 invece dovrebbero essere quelle nuove a quattro lote motrice io penso che l'r4 sì sono le nuove r2 penso che siano molto più competitive sicuro guai se non fosse così per quanto ripeto secondo me potevano aspettare ancora un pochino perché ora chi ha le 208 r2 c'è queste macchine cosa fai la fiesta c'è stanno dietro sicuramente poi tutto stato al pilota ecco però credo che la vera evoluzione la vera evoluzione che ci sia stata secondo me sono le r4 e le n5 il resto penso che non faranno tanto scalpore ecco secondo me le r4 e le n5 saranno acquistate tante tante team acquisteranno queste macchine secondo me sì lo so vai abbiamo finito ringrazio per il partecipato no ringrazio a tutte le persone che ci hanno seguito saluto tutti ringrazio particolarmente a te per avermi dato questo piacere spero di risentirci e a disposizione sempre un saluto a tutti ciao 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 io vi ringrazio tutti per aver partecipato ci saranno live futuro non so questa nostra l'ultima però vi faremo sapere con altre con ragionamenti sulle storie ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti